Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Dark Knight E si sto registrando ma Ve giuro in questo momento c'è tipo Corri di qua, corri su, corri giù Un macello Cos'è? Il dodicesimo episodio questo si? Va bene Allora che dobbiamo fare in questo dodicesimo episodio? Avete letto il titolo si? Ah ok Allora dobbiamo fare l'autocrafting Si non è che scriviamo autocrafting vabbè Allora come funziona l'autocrafting della Logistic Pipe? Innanzitutto vi faccio vedere cosa ho fatto off camera Che altrimenti non capite dove voglio andare a parare Innanzitutto qua ho sistemato anche un barilotto per la dirt Così nel dubbio non ci da problemi nella cassa Guardate qua ho fatto uno scantinato Papparabà guardate che carino con tutta la lava che scende, il vetro eccetera Poi come potete vedere l'ho fatto alto 4 Perché volutamente ho voluto, vedete Avere i cavi della Logistic Pipe a portata di mano I cavi per la lava a portata di mano I cavi per la corrente o tutto in questo scantinato Posso creare qualunque cosa Comunque in questo episodio faremo l'autocrafting base Nella Logistic Pipe Mentre nel prossimo vedremo qualcosina di più avanzato dell'autocrafting Bene, cosa dobbiamo fare innanzitutto per fare l'autocrafting Allora guardiamo la Logistic Pipe Innanzitutto ci serve questa qui La Logistic Crafting Table Si fa con il Basic Gear Che è molto semplice Però appunto dobbiamo prendere un po' di stick Ah stick Dammi gli stick Prendiamo 20 Poi ci serve il Wood Che il Wood è come il pane ci serve Sono andato prima a tagliare la legna grazie a Dio Quindi non abbiamo problemi Vediamo se ho delle chest E voglia Magari 30 no Andiamo a vedere che ne sono 6 Ok Dopodiché che altro Wood serve per questa schifezza Legno Ho tutto Ho tutto Allora Praticamente Ah no mi serve anche la cobblestone La cobblestone E ne ho 8k Mamma mia Prendiamo le altre 50 Va vai buttami tutto Allora Come funziona l'autocrafting Molto semplicemente Voi vedete che in questo momento sto richiedendo oggetti al mio impianto Ok E l'impianto a un certo punto Che ne so Gli voglio chiedere Una crafting table mettiamo no Però lui magari nel magazzino Nelle ceste la crafting table non ce l'ha E mi dice Ma che cazzo vuoi che faccia Se io la crafting table non ce l'ho Al che io gli rispondo Fratello Guarda che semplice da craftare Craftatella tu E così praticamente l'impianto mi crafta in automatico le cose che mi servono Bella eh Proprio una vera magheagna Allora Come che si faceva così le rotelle Ok 5 Faccio almeno un altro Arriva a 6 Siamo a fare 6 di quelle lì Anche se Ne serviranno così tante ragazzi Di queste auto crafting table Che Madonna Non potete immaginare Ok siamo a 6 rotelle Andiamo un po' se va Ole 2 Perché 2 Perché non ho il legno Giustamente Vai legno Allora Voilà E ne facciamo 6 Dopodichè dobbiamo fare Signori e signori I request No non i request I request Ma che cazzo dico I crafting Stiamo facendo l'auto crafting Ci serve il crafting logistic pipe Le mk2 Per 16 ite Malavolta Addirittura Esagerato Esagerato Sto crafting logistic Comunque semplicemente ci serve quello standard Molto semplice Allora quindi abbiamo Un basic logistic Una stone gear E una redstone Al che la mia domanda sorge spontanea Quanti i basic ho? 9 Va bene Per ora ne prendiamo 6 Tanto Vi faccio vedere le basi Però non è che vi Metto qui Vi ammazzo di Di video Finchè non finisco l'auto crafting Del mondo Cioè Chiariamo Non voglio assolutamente uccidervi Un po' di stick Ce li ho Ce li ho Ce li ho Che altro serviva Nient'altro Mi sembra Ah la redstone La redstone Senza redstone Dove si va? Vai prendiamole una quarantina Olè Allora Servono gli stick Innanzitutto Devo fare un po' di rotelle E so poche poche Facciamo un altro po' Allora così Facciamo un po' di Rotelle No Non le so fa ste cose Perché mi fanno fa ste cose? Mannaglia la miseria Perché devo fa ste cose? Ok Nove rotelle Ho fatto Basta con sti fuchi d'artificio Madonna Che brutta sta cosa Che ogni volta che apri un qualcosa Un inventario Eh boom Allora vediamo Intanto un basic E poi ci prendo anche qualche golden Si sa mai Velocizza Quattro golden Allora vediamo un po' Cosa dobbiamo fare nel nostro scantinato Andiamo subitissimo Mamma mia Non laggare per favore Allora partiamo da qui Piazziamo tutte qua in fila Vabbè potremmo anche piazzarle sotto terra In effetti Perché qua su Le piazziamo qui Cinque e sei Così in questo modo Wee minecraft Madonna Ok Ora devo far arrivare questi cavi Qui ci metto un logistic Sia mai Così l'impianto capisce che Qua sotto non devi scendere a cazzo No ci sono Eh però servono altri tubi Mmm Le servono altri tubi Allora No non li devo richiedere Alla working table Madonna Alla crafting Alla workbench Vabbè Me sto a confonde Basta Me sto confondendo Una ventina Magari devo fare qualche altro logistic Logistic Miene ho due Vai ne prendo solo uno Per il momento Un altro logistic Non si sa mai potrebbe tornare utile Allora Vediamo un po' Ci mettiamo qua un golden Che vogliamo velocizzare il mondo Poi dopo ci mettiamo I sei crafting qui Tre Quattro Cin E sei Dopodiché ci metto un altro basic A sto prezzo Qui Hole è tutto Bello collegato Adesso Gli diciamo Signore Io qua voglio che tu Nel caso veda Una di queste Una di questi Hawkwood Mi fai Quattro di questi Poi andiamo sul tubo E gli diciamo Tu Devi capirmi Ecco Vedi Fate import E ovviamente Vi rileva che Un Hawkwood Può diventare Quattro wooden plant Adesso facciamo Cose un pochino Più complesse Dammi questo Dove farlo nell'inventario Per forza Guardate che stronzi Adesso io voglio che tu Se c'è quattro di questi Mi fai Una crafting table E facciamo Quindi import E quindi Se l'impianto Gli chiede una crafting table Lui sa che Deve craftarlo Con quattro di due cose Poi Ti guarda Con due Mi fai I bastoncini Import Poi gli diciamo Vediamo un po' La cesta La cesta Torna sempre utile Ok Che altro possiamo fare Vediamo un po' Allora ecco Cerchiamo di Fare l'auto crafting Di questa roba Così ne facciamo altre Questa ce l'ho Questa ce l'ho Il legno ce l'ho Mi mancano le rotelle Le rotelle Come vedete Sono un po' Barbose Eh già Devo fare Prima la rotella Di wood Oh intanto Aspettate Qua Ok I bastoncini Li abbiamo Già messi L'auto crafting Quindi Ora gli possiamo dire Guarda Voglio le wood gear Poi gli dico Guarda Dalla wood gear Beh devi fare Eh no Eh però Devo craftare Una per forza E comunque Vi devo fare Un'altra crafting Di quelle lì Perché Ora vi faccio vedere Innanzitutto Facciamo Un'altra di queste Eccola qui Facciamo Altre di questi Una bella crafting table Ole Crafting table Cosa serviva Ah questo qui serve Ok Buono Questo lo possiamo fare Anche così Con l'enderio Grazie enderio Per una volta Servi a qualcosa Eeeh Pa 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 Così Eccola qui Ne abbiamo fatto un'altra Devo fare Devo fare un altro Chiedo L'ultimo Che c'ho Di basic Devo fare un altro Crafting Purtroppo Quindi mi serve Un'altra Rotellina Ok Devo fare anche Un'altra Poi per Il L'autocrafting Eccola qui Quanti cazzo Ne ho fatto Oddio Basta Basta Rotelle Basta No no Questa c'era già Allora Così E così E diciamo Senta signore Tu mi devi fare Un crafting Perché Me ne manca uno Ok Dopodiché Allora Vediamo un po' Ho queste rotelle Che ci faccio Con queste rotelle Andiamo Un po' Ricordo più Ok Comunque Devo fare una Rotella Di questo tipo Ok Poi mi faccio Una chest E Mi faccio Ok Una Crafting table Perfetto Così dovremmo aver finito Ora vi faccio vedere Che figata Ragazzi Allora Noi andiamo qua sotto Abbiamo quasi finito Non vi preoccupate Allora Qui diciamo Cos'hanno detto Qua La rotella di legno Io voglio la rotella di pietra Così Mi fai la rotella Di pietra Voilà Ora gli mettiamo Un'altra qui Per terra Così Un bel crafting Dov'è il crafting Qui E gli diciamo Senti Mi fai un po' Questa schifezza qui Ecco Quindi gli dico Import Con quattro legni Una crafting table Una stone gear E una chest Mi fai Logistic crafting Ora gli vedrei Ora andiamo lì Vediamo un po' Funzionerà l'auto crafting Facciamo la prova definitiva Visto che Tanto le devo fare Una valanga Ovviamente L'ho trovata in fondo Alle pagine In genere No Allora Mettete qua Craft Eccolo qui Vedete Gli diciamo Ma mi fai un po' Di queste Una decina You're missing 10 stone gear Mi dice Però io le stone gear Ti ho detto come farle Ah Però non gli ho dato L'import Non gli ho dato L'import Bravo Impianto Vedete L'impianto intelligente Mi ha detto Guarda Non so come fare le rotelle Non me le hai messe Nel tubo Povero impianto Dai dai Ora ti ho detto Come farlo Ora Tu andrai a stecca Wood gear Ma madonna Ma manco le wood gear L'ho messe nel tubo Perché Mi dimentico ste cose Perché Ok Ok Dovremmo aver fatto Adesso Allora Signori Signori Gli diciamo Senti Ora tu finalmente Mi crafti 10 di queste E non rompi le balle Oh Alleluia Ora vi faccio vedere Sotto che sta succedendo Un gran casino Guardate Arriveranno crafting Guardate la roba Che si crafta Guardate che casino Eppure avete visto È velocissimo Ci le è già craftate Eccole qui Le nostre 10 Logistic crafting Table E quindi ragazzi Questo era Il primo episodio Dell'auto crafting Logistic pipe Per vedere Sono cose Molto semplici Voi attraverso Queste Crafting table Logistiche E questi tubi Potete dirgli Di craftare Quello che ve fare Ovviamente se c'è qualche problema Come avete visto anche dal request Il request vi dice guarda Non posso craftartelo perché mi manca questo Questo e questo Quindi non penso ci sia niente da capire O da spiegare, è molto semplice E porca miseria quante ne devo fare Perché vi giuro che I crafting non bastano mai Non bastano mai, ad esempio Adesso io tipo devo farmi Altri crafting logistic pipe E allora cosa devo fare? Mi metto qua, faccio l'auto crafting Dei basic logistic pipe E poi li faccio diventare crafting con la rotella Quindi ora vi devo fare l'auto crafting Del tubo, della rotella d'oro Dei cosi di cobblestone E della torcia di reston Olè, avete capito? Pensate che bordello Comunque ragazzi ci vediamo al prossimo episodio E faremo delle cose un pochino più avanzate Da Dark Knight è tutto Ciao a tutti